Insomma, relativa, due minuti di protesta, è fisiologico, è un gioco parlamentare, perché parlamentare di lungo corso, avendo visto anche diversi parlamenti, è più che normale quello che accade, è ovvio che l'opposizione fa il suo mestiere, ma bisognava votare un decreto che scadeva, i tempi erano quelli, è fatto bene il Presidente Fontana, visto qual era la situazione, visto che tutto viene espresso alla loro posizione, a far votare c'era una maggioranza talmente ampia.